Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un video speciale, non la definirei una provocazione, ma quanto più una arena magari tra due giochi per chiedervi un parere e per mostrarvi quello che io ho constatato fino a questo momento. Oggi confronteremo Archage Unchained, l'ho preso 25,99€, mi sono tolto uno sfizio diciamo, volevo riprovarlo dopo diversi anni, vi avevo fatto un video tra l'altro, non andatelo a vedere perché aveva regolato i volumi da cani e in pratica si sente molto di più la musica della mia voce, l'avevo portato 4 anni fa mi pare, o 5 addirittura, quindi tantissimo tempo fa, e l'avevo giocato anche con Mr. Delric. E confrontato con Black Desert Remastered, quello invece costa molto meno, costa sui 10€ su Steam, l'ho avuto gratis perché c'era stato un periodo in cui se lo si andava a riscattare su Steam lo davano gratuitamente, insomma però. Andremo a vedere. Allora, io ho fatto due personaggi molto simili, due elfe, sia su Archage sia su Black Desert, Black Desert, benché io abbia sempre avuto fatica, insomma, a giocare con un personaggio femminile perché non riesco a immedesimarci, mi mancano le parole, è prima mattina, è prestissimo, quindi insomma sto facendo un pochino fatica. Allora, Archage, vi farò vedere un attimino, l'ho avrete già visto, se avete visto il video anni fa, aveva avuto dei problemi al lancio perché è uscita questa versione Unchained, che vi spiego subito che cos'è. Il gioco mi ha incuriosito perché appunto è uscito in questa versione Unchained, che significa che in pratica il gioco è buy to play, non è più free to play, quindi non c'è alcun tipo di abbonamento in gioco. Pareva ci fosse un abbonamento che poi hanno tolto, non ho capito se c'è ancora, ma non è nulla di indispensabile. Perché? Ogni cosa che noi facciamo, dal crafting, alla raccolta, al taglio alberi, insomma, qualsiasi cosa abbia un'interazione, ci va a consumare dei labor point. I labor point si rigenerano 10 ogni 5 minuti, in questo caso, oppure quando siamo offline si rigenerano. E questo è un grosso limite. Vedete, io adesso sto battendo l'albero, battendo l'albero mi verranno scalati dei punti. Ne ho usati 20 in questo momento, sui 3610 che ho abbattuto, ho ottenuto delle niame, insomma. Ecco, quando c'era il discorso del free to play con l'abbonamento, la gente shoppava, poteva comprarsi, beh, doveva pagare l'abbonamento, sennò i punti erano veramente pochissimi, soprattutto la cosa che mi ha fatto decidere di mollare il gioco è stata il fatto che io stavo sudandomi, in... avevo fatto una casa, insomma, e avevo un orto e stavo coltivando alberi per ottenere il Thunderstruck Wood, che era un albero fulminato da, appunto, un fulmine, che poteva capitare raramente nei periodi di pioggia. Vedete, là in fondo poi ci sono tanti alberi, mettete caso a una cosa del genere, fatta più o meno in un giardino, e ho scoperto che quella stessa... quello stesso albero veniva venduto allo shop a soldi veri, quindi li ho quittato immediatamente. Ora, questo è una versione di gioco dove lo acquistate e finisce lì, perché quello che poi potete fare dopo con lo shop sono strettamente cose cosmetiche, quindi in pratica avete il marketplace dove potete andare ad acquistare cose in più, ma cambio del nome, insomma, poi ci sono anche un sacco di cose, di appunto vestiti, insomma, kit vari, ma nulla di che. Io ho diversi dubbi tra i due giochi e ho diversi dubbi anche su Archeage. Il primo dubbio che ho in pratica è la quantità di gente che c'è, perché rispetto a Black Desert, poi dopo lo andremo a vedere, ha meno... cioè, mi sembra che abbia meno gente, meno gente in giro, si trova meno affollamento in giro, ed è un gioco che per certi aspetti punta molto anche su una gilda o su altre componenti, come la cooperazione, perché in pratica la mappa di gioco è molto carina, ce ne sono tanti. Io adesso sto andando verso Mariannopol, che è la città più grossa, però sto seguendo la linea di quest, si navigherà, insomma, per mare, ci sono delle... ve l'avevo già spiegato forse nello scorso gameplay anni fa, in pratica potete caricarvi sulle spalle delle merci e commerciare tra una città e l'altra, cosa che vedremo si potrà fare anche su Black Desert. Però il discorso nave ci consente di costruire una nave, craftare una nave con la gilda, con gli amici, e andare a fare dei viaggi pericolosissimi con pirati, con altri player, piuttosto che perché il mare è pvp, oppure contro mostri marini. Io l'avevo fatto anni fa, quando il gioco era appena uscito, quindi parecchi anni fa, con la gilda avevamo proprio rischiato di non arrivare. Il dubbio che ho è appunto l'asta, che è accessibile anche da qui, mi sembra diciamo ben rifornita, mi sarei forse aspettato qualcosina di più, per alcune cose, ad esempio vedete che non potete, andando sulle mount, non c'è praticamente nulla, poi io questo video lo metto come provocazione, anche i mezzi non c'è nulla, navi non c'è nulla, ci sono componenti per le parti di nave. Questo video lo metto come provocazione, poi non è che io voglia fare polemica o voglia criticare un gioco piuttosto che altro, perché io attualmente sono combattuto tra i due titoli, quindi chiedo aiuto anche a voi, vi faccio, vi do le mie impressioni, voi mi darete le vostre, ovviamente vi chiedo di non essere prevenuti su nessuno dei due titoli, ma analizzarli un pochino anche in base alle vostre esperienze o quello che avete visto, che avete sentito. Le queste sono molto chiare, indicano proprio tutte dove andare, quindi in pratica potete anche non leggerle, anche se io in realtà sono partito come elfo, elfa, e ho seguito la quest, ho letto, avevo sotto una pagina di google traduttore che ho usato pochissime volte, giusto per poche parole, perché l'inglese non è eccessivamente difficile, bisogna essere un pochino più rapidi nelle cutscene dove parlano, ci sono i sottotitoli, ma vanno anche, non dico veloce, però non sono neanche lentissimi. Ora sto facendo le quest per una notizia qui. Che cosa ho capito? Ho capito che in pratica gli elfi e gli umani sono fuggiti da un territorio, in pratica da un territorio che è qui, a Oroie, gli umani sono fuggiti qui. In pratica cosa succede? Gli umani hanno stretto un accordo con gli elfi, vanno d'accordo, ma ora, perché in pratica i loro antenati andavano, 12 persone andarono tipo nel cuore del mondo e praticamente scoprirono i segreti del mondo e diventarono degli dei. E uno degli dei, uno degli umani, in pratica, diventò il dio della distruzione, in pratica, che uccise il personaggio, diciamo, la persona che apparteneva agli elfi, che era, adesso non mi ricordo se il dio della speranza era una cosa comunque buona tra le due. E allora ci furono sempre dei conflitti tra elfi e umani. Poi che cosa succede? Succede che noi iniziamo il gioco, c'è tipo un concorso di elfi, in pratica un'arena, un torneo, dove per la prima volta vanno a partecipare anche degli umani. Il problema è che noi sfidiamo un umano e quest'umano lo battiamo e pochi minuti dopo, che noi ce ne siamo andati dopo aver vinto, muore avvelenato e si scopre che l'arma che ci avevano dato era stata avvelenata. E ora ci stiamo prodigando da tipo una decina di ore per cercare di scoprire chi è stato. Noi siamo stati scagionati in seguito alle quest, non vi dico nulla, però abbiamo perso la fiducia degli umani e quindi siamo, percorreremo praticamente tutta questa zona fino a Mariannopol, dove si concluderà la storia, più o meno intorno al livello 30, poi la storia diventerà uguale per tutte le fazioni e dovremo riacquisire la fiducia perché è un disastro se gli accordi commerciali non andranno più bene tra gli umani e gli elfi. Vabbè, in pratica adesso ci stanno dando delle missioni, il pallino, il quadratino verde invece sono le missioni ufficiali degli elfi, mentre le altre le sto facendo in giro. È molto semplice, il combattimento come avete visto è stile World of Warcraft, quindi diciamo classico. Quello che possiamo fare dopo, probabilmente ve l'ho fatto già vedere ma ve lo riassumo nuovamente, vedete qua potete costruire delle case, potete piazzare i vostri campi, le costruite, portate voi materiali a mano, vi costruite la casa, la casa poi non è istanziata perché in pratica dentro, vedete, possiamo vedere quello che questo tizio ha fatto all'interno, potete anche aperta, quindi possiamo entrare, vedete questo fatto, potete farci tavoli dove lavorare, dove appoggiare la vostra roba e vi danno dei bonus, praticamente farvi un orto, farvi il recinto, insomma abbastanza impegnativo ma interessante. E la peculiarità di questo gioco per cui tutti lo conoscono è questa, potete andare a viaggiare con questo glider per spostarvi velocemente tra una zona e l'altra, non si vola liberamente diciamo ma si vola con questa sorta di deltaplano al contrario. Il deltaplano in pratica è un'altra peculiarità, è molto bello quando poi siete molto in alto, insomma scendetevi e spostate, un'altra peculiarità che le mount sono molto particolari perché la potete evocare, io ho questo alcio insomma che mi hanno dato all'inizio e l'alcio vi segue, quindi è un personaggio proprio come un companion, infatti potete vedere nelle statistiche, gli ho equipaggiato questo gear alle zampe, vedete che è rinforzato e tecnicamente sarebbe anche in grado di combattere, potete poi salirgli e poi andare e viaggiare, potete arrivare fino al punto di prendervi delle auto insomma. Allora vi faccio vedere rapidamente, questo è il menu delle info, con il mio livello, tutte le mie statistiche, questo è il mio inventario, qua sotto potete andare a decidere di upgradeare dei pezzi di armatura con varie pietre, quindi avete poi la solita percentuale di upgrade, il quest log con tutte le missioni che avete, gli achievement, man mano fate le cose sbloccate un po', gli obiettivi l'avevano aggiunto che su World of Warcraft, le skill, questa è la peculiarità del gioco, potete combinare liberamente tre skill diverse, tre scusate, classi diverse, tre classi diverse che combinate vi danno una classe finale, io ho preso Sorcery, Auramancy e Witchcraft, ce ne sono diverse da scegliere, potete spendere dei punti per resettarlo e ripartite di livello un pochino più basso dopo, dopodiché una volta che risalite di livello spendete i punti, vedete in questo caso io posso andare a prendere una di queste abilità, allora a livello, beh adesso posso già prenderlo, no, no non me lo fa prendere ancora questo, e in pratica vi sbloccate le skill di ogni classe che poi mettete qua sotto, quindi man mano andate avanti, guadagnate i punti, skill point, aumentando proprio di livello, sbloccate le varietà, poi potete anche combinarne cose strane tipo mettergli, in posto di Witchcraft mettergli un'abilità da guerriero, quindi diventate un ibrido insomma, però non è detto che tutte le classi siano efficienti, qua abbiamo delle cose che non conosco ancora, che devo esplorare, le abilità base, quindi dal recolpo alla ultima online dove selezionate un punto e vi teletrasportateli usando delle pietre, che sono pietre, queste le here after stone, gli emoti e i proficiency sono l'abilità che avete, io ho diciamo raffinato del metallo, quindi in pratica cosa succede, che in pratica più salite, più vi aumenta l'esperienza, però più vi costa il tempo di lavoro, in pratica vi costa il labor point, però potete fare cose molto più raffinate. Andando avanti, vabbè, c'è la mappa, c'è la vocation, che non ho ancora ben capito, perché c'è il folio, che ci spiega praticamente tutto riguardo le proprietà, i giardini, insomma, tutte le cose craftabili. Le public farm, perché se non avete una casa, non avete un giardino dove coltivare, potete usare le farm pubbliche, anche lì mi lascia un pochino il dubbio, perché le public farm sono vuote, quindi il gioco, io ho paura, si sia un pochino svuotato. Ho giocato anche ieri sera, fino a tardi, e non c'era molta gente, quindi in pratica non lo so, è un po' un dubbio. Il trade info invece ci dà le merci, cosa è meglio scambiare tra una città e l'altra, in pratica quanto vengono valutate. La community con, vabbè, possibilità di vedere le gilde, insomma, è tutto. E un'altra cosa riguardo le gilde, è che in pratica, vedete che le gilde, se fate un search, ne vengono fuori un po' pochine. Quindi, non lo so, non ce ne sono tantissime, e mi lascia anche con poca gente. Poi, non che io cerchi gilda, però, quando un domani mi prendessi bene e volessi unirmi nella gilda, questo gioco mi lascia un po' il dubbio. Io sono su un server, tenrep, insomma, adesso sono tinrep, non mi ricordo bene il nome, scusatemi, bella sta casa. E questo, vabbè, tanto crafting, tanto esplorazione, combattimento, insomma, potete anche mettervi anche solo a coltivare, guadagnate esperienze comunque anche facendo quello. Giocate all'asta, fate i commerci tra una città e l'altra, quindi questo è Arcade. Ora andremo a vedere anche Black Desert e ne traremo delle conclusioni, benché a Black Desert ci abbia giocato meno ora, poi tanto, anni fa. Ed eccoci adesso su Black Desert. Come vedete ho creato l'elfa, se così possiamo dire, anche qui, e la grafica è nettamente più bella. La cosa che salta all'occhio è quello. Allora, entriamo nella partita. Sono più o meno a livello 15, siamo più o meno di pari passo, quindi sto portando avanti un po' e un po' i due giochi, quindi in pratica Black Desert Online Remastered è stato rifatto, diciamo da poco, anche se io sto faticando parecchio a trovare un'impostazione grafica adatta, perché mi sembra un po' saturato male. Qua vabbè, c'è una serie di calendari in cui possiamo continuare a giocare sbloccando via via nuovi oggetti che ci dà come bonus per la frequenza. C'è anche un effetto di bloom veramente accentuatissimo, che mi dà quasi fastidio. Vedete quanto la luce del sole è forte, quindi possiamo andare nelle impostazioni e sistemarlo. Vabbè, ma non è questo l'importante, infatti vedete gli effetti, posso diminuire un pochino magari la gamma, l'ho già diminuita, però insomma, contrasto, aumentarlo, diminuirlo, vabbè. Comunque, comunque, che cos'è Black Desert? Black Desert è un gioco anche lui, che arriva da oriente, come lui era anche a Cage, dove le meccaniche sono un pochino diverse, perché in pratica, vabbè, adesso andiamo a vedere la mappa, ci allontaniamo un pochino, magari andiamo in una zona dove si combatte un pochino, ma veramente è fastidiosissima la... c'è anche un effetto tipo color seppia, quindi adesso inizia un pochino a colorarsi di più. Allora, in pratica, intanto facciamo una cosa, leviamo magari quell'effetto di profondità di campo, che magari è un po' più fastidiosa, anche se c'è comunque, quindi vabbè. Allora, vabbè, a parte questo che poi lo sistemerò, graficamente è qualcosa di meraviglioso. Quello che rende diverso Black Desert è, prima di tutto, c'è una marea di gente. Se guardate su Steam Charts, per vedere anche solo quanti su Steam ci stanno giocando, vedete 20.000 persone su Black Desert e 800-700 su Archage, quindi quello è la cosa che mi lascia un po' più perplesso. Poi, il combattimento è puramente action, quindi ovviamente avete le combo, quindi avete la possibilità di picchiare le persone così, facendo anche delle combo, quindi combinando le abilità che avete sotto, e come ci suggerisce qua, in basso a destra, potete andare a creare delle, proprio delle mosse, facendo quello. Qua, il mondo è assolutamente enorme e si va fino qua, dove c'è il deserto, dove in pratica ho scoperto che se ci vagate non vedete dove siete, quindi vedete una volta che uscite dal deserto, quindi dovete bere, dovete rifornirvi, insomma, di acqua e di cibo e non perdervi. Ci sono una marea di cose da fare, perché anche qui c'è il crafting, c'è l'housing, l'housing è un pochino diverso, se volete vedere un pochino quello che abbiamo fatto tempo fa, anni fa, potete andare sul canale di Mr. Deller e vedere i video che avevamo fatto insieme, ne abbiamo fatti uno o due. In pratica, è, secondo me, questo un gioco, votato molto più il gioco da solo, nel senso che potete collaborare, sì, potete anche navigare per mare, se non mi ricordo male, non capisco perché mi sta riaprendo questo, ci sono tante, una serie di tanti mini giochi, insomma, da fare per poter sbloccare cose, potenziare oggetti, quindi di oggetti da fare ce ne sono tante, graficamente, come dicevo, è bellissimo perché se piove poi vedete le pozze. Qua potete comprare, non leggere, no, andare all'asta a comprare i carretti e andare a commerciare come è fatto esattamente su Archeage, quindi andare a prendervi delle merci, parlando col tizio, e per ogni mercante, ogni PNG potete commerciare, conversare, quindi migliorare la vostra abilità di conversazione, dargli dei regali, aumentare la reputazione che lui ha verso di voi, andare a fare degli scambi oppure andare semplicemente a parlare e prendere delle quest. C'è un sacco da leggere, anche qui l'inglese è piuttosto comprensibile, però insomma c'è tanto da leggere. Il bello è, adesso non valutate la grafica per questo effetto bloom che io sto cercando di sistemarlo da ieri, ma devo ancora capire quali sono le impostazioni ideali. Riflessi veramente eccezionali, potete anche possedere poi una nave, andare e pescare. Quello che cambia rispetto agli altri è che l'housing non è, diciamo, nel gioco, è istanziato qua, rispetto a Archeage, dove dovete trovarvi il lotto libero, prendere la casa e pagarne l'affitto. Qua abbiamo una casa, quindi possiamo andare a visitare una casa, andiamo a vedere la casa di quello che ha la mobiglia migliore, perché ogni mobiglia poi dà un punteggio, anche in base ai voti che danno i giocatori se non mi ricordo male, e quindi potete vedere quello che ha all'interno, potete depositare oggetti se non mi ricordo male, questo qui poi è un sacco di roba, ma la cosa bella è che adesso noi qua non lo possiamo fare, ma qualora ci fossero le finestre chiuse, le possiamo aprire e guardare fuori. Beh qua si vede, qua si vede ogni giocatore proprio passare all'esterno. Questa è la casa completa. In realtà io volevo andare a vedere se... vabbè, usciamo, va. Vedete, uscite. Se la vostra casa ha, come in questo caso qui, se non mi ricordo male, andiamo a vedere le scale col piano di sopra, si va al piano di sopra, mamma mia, questo qua l'ha reso veramente... cioè voleva praticamente strafare questo qua. Vabbè, in pratica, se voi aprite la porta e uscite, cosa che io non riesco a fare in questo momento? Perché questo qua veramente ha voluto accumulare un accumulatore seriale di roba e ci ha buttato dentro di tutto. Mannaggia. E vabbè, niente, ce ne andiamo. Ce ne andiamo perché ci siamo persi dentro sta casa. Facciamone un'altra, va. Facciamo questo, l'ultimo posto che magari ci lascia muoverci un po' meglio. Sì. Ecco qua, vedete. Qua fuori potete vedere tutto e se questa poi è la vostra casa, andate qui e potete saltare giù e siete direttamente in gioco con tutti gli altri. Allora, ma qual è la particolarità di Black Desert? Black Desert vi permette di possedere più proprietà grazie ai contribution point che accumulate facendo quest, facendo varie attività e potete andare a prendere delle case, comprarle, diciamo, noleggiarle in pratica con questi contribution point e magari una renderla, eccole qua, le vedete, potete renderla uno storage, quindi un magazzino, un lodging. Potete fare quello che volete. In pratica mettete giù un imperio commerciale. Quindi mettete le residenze, mettete quelli per un workshop di produzione. Poi andate all'esterno, prendete con il contribution point delle fattorie e praticamente mettete dei lavoratori che coltivano per voi. Potete andare anche a coltivare voi stessi, ma potete mettere dei coltivatori. I coltivatori poi portano tutto in tempo reale alla vostra fabbrica che avete messo in uno dentro di questi edifici qui e poi andate a vendere. Quindi avete la vostra produzione e questo gioco vi incentiva a mettere in piedi un vostro imperio commerciale. Adesso andremo a vedere anche un attimino i menu perché i tempi sono ristretti e ci siamo già persi abbastanza perché voglio tenere più o meno una quindicina di minuti sia a un gioco che all'altro. Io vi dico tra i due sono combattuto perché veramente non so scegliere, non so adesso se sto dando l'impressione di preferire uno piuttosto che l'altro. Probabilmente guardando il video avete l'impressione che vi piace di più Archeage. In realtà no, nel senso che sono molto combattuto perché adesso entriamo in una zona di combattimento e vi faccio vedere anche come funziona. A parte la grafica che è stupenda ma devo regolare questo effetto proprio di abbagliamento che mi fa fastidio. Graficamente è bellissimo, anche il nostro personaggio è fatto benissimo anche se è un po' orientale ma dopo un po' vi abituate insomma a questo stile. Lei può poi evocare questo demone qui che la aiuta, la guida, in pratica gli permette di potenziare l'equipaggiamento. Allora, mi piace di più di Archeage il fatto che ci sia l'housing non istanziato e che ci sia un combattimento classico anche se questo magari abituandomi un po' mi darà sicuramente anche questo delle soddisfazioni, anzi infatti falciare decine di nemici in questo modo qui combatta lo rende molto dinamico. Quindi il combattimento mi piacciono mi piacciono entrambi devo dire. Devo combinare le combo. E che non mi piace di Archea e di Black Desert è il fatto che ci siano una quantità di testi impressionanti a schermo. Cioè veramente una cosa. Poi il fatto di avere comunque tante cose che magari si possono trovare con una minuscola percentuale nel loot delle persone, del crafting, del gathering quindi potete andare anche a raccogliere i materiali. Mi piace molto questa cosa. Ah, mi serve un piccone. Qua invece ero già integrato su Archeage, qua invece bisogna procurarselo. Quindi vedete, è tutto tremendamente figo. Adesso vado a fare una combo. Dovete fare attenzione a vedere se... Ci sono poi i boss mondiali dove, diciamo, parte la mega quest dove tutti vanno e lo affrontano e lo abbattono. E la cosa che lo rende un pochino meno immediato è il fatto che ogni personaggio ha la tag, al tab, diciamo, di conversazione con quest e vi dà il mondo da fare. Le quest poi sono sempre le solite alla fine. Però ci sono anche delle scene animate in cui state riguardate e parlano i personaggi. Quindi è interessante anche il fatto di mettere comunque un mondo enorme delle città. Comunque questa città costiera molto bella, probabilmente ispirata anche all'Italia. Tante cose da fare. Adesso vi faccio vedere il menu perché premendo Shift e Control, scusate, potete muovere il mouse direttamente in schermata. Quindi potete andare a vedere un sacco di cose. Abbiamo il boost attivo, siamo dei rookie, quindi siamo su all via server, quindi abbiamo questo boost dei primi giocatori. Qua ci sta dicendo che praticamente facendo tasto sinistro F tasto sinistro F ci fa quella mossa lì. Quindi in pratica chiudo, vedete, facciamo tasto sinistro e poi F e ci va a fare una combinazione. Possiamo poi Ok, non possiamo gatterarlo perché non abbiamo il coltello del macellaio. Quindi vedete, cose da fare ce ne sono tante. Il mondo è veramente molto molto ben fatto E' più orientaleggiante questo poco da fare. Allora, qua abbiamo Black Spirit che ci dice che abbiamo degli oggetti non reclamati Qua abbiamo le challenge, tutte le sfide che possiamo fare, che abbiamo fatto e possiamo andare a completare Le giornaliere Cioè di cose da fare ce ne sono veramente tantissimo Le mail, con tutte le mail ricevute Abbiamo Le conoscenze generali No In pratica ogni personaggio, ogni nemico che andiamo ad abbattere Più ne abbattiamo, più ne scopriamo i punti deboli Quindi andiamo a fargli più danno Abbiamo le skill Questo devo ancora studiarmelo bene Perché possiamo andare dal nostro Addetto di fiducia in città E comprare skill nuove Abbiamo I coupon Che devo ancora capire che cosa sono Sono dei coupon all'inizio per i nuovi giocatori Hunting spotted Vabbè Tutte le conoscenze di caccia che abbiamo Abbiamo la lista delle quest da fare Abbiamo Le notifiche del marketplace Abbiamo il pearl shop Qua è tutto Anche qui come su Archeage È tutta roba Cosmetica Quindi possiamo andare ad acquistare vari vestiti Ovviamente Inutile dirvi che Essendo un gioco coreano Mi fanno vedere degli outfit Assolutamente inadatti Al compattimento Ma come loro piace E belli da vedere Insomma Ovviamente Vi ho fatto vedere meno su Black Desert Perché sono all'inizio Ancora più all'inizio Rispetto Ad Archeage Quindi voglio approfondirlo Sicuramente Il punto forte di questo gioco È che c'è un botto di gente Quindi anche Comunque il commercio c'è Potete vendere roba Potete comprare roba Addirittura in preordine gli oggetti Quindi volete un oggetto All'asta non c'è Mettete il preordine Quindi vi mettete in coda E quando questo oggetto viene venduto Viene venduto a voi Credo che i prezzi Non siano proprio liberi Ma decisi da un'economia di gioco Che permette l'economia Di non uscire Diciamo Di non inflazionarsi troppo Però di cose da fare Veramente Il mondo si può interagire Con tantissime cose Adesso provo quella mostra Che mi diceva Uno Due E beh Cioè Dà soddisfazione al combattimento Sicuramente più che in Archeage Ma Archeage Vi permette di fare Il classico combat Un po' meno dinamico Un po' più Forse rilassante Dove vi premete i vostri tasti E fate la vostra rotation Rotation che comunque Trovate anche qui Bene ragazzi Allora io vi saluto Vi ho fatto vedere Questi due giochi Ovviamente ora Attendo il vostro parere La vostra impressione Le vostre esperienze E alla prossima ragazzi E ciao ciao Magari faremo anche un altro video Insomma su questi due giochi Magari in fase un po' più avanzata O vi dirò magari Quale dei due Mi è piaciuto di più Alla prossima E ciao ciao Magari in fase un po' più avanzata